Questo programma è offerto da Mar Blu è Ilio Pesca Prato Il mare sulla tua tavola Ciao ragazzi, ciao ragazze Nonnine siete pronte? Nuova ricettina Cosa si fa? Oggi vi propongo delle vongole Vongole agli aromi Sentite, come si fa? Quando si passa da Ilio Pesca e si vede queste bellezze Non prendile Eh, io non ho saputo dire di no E quindi faccio questo piatto unico Un piatto unico, veloce E buono anche Intanto prendo Ho fatto delle brisciole grossolane Brisciole di pane E vado a metterle Qui Guardate un po' Un po' di olio Così E questi due crostoni si mette tutto in forno Bene Uno qui E si fanno tostare E si fanno tostare Ecco qua Questo Poi Nel frattempo Io ho tritato degli aromi Sono del rosmarino Aglio E prezzemolo Però potete mettere quelli che volete Se nell'orta avete maggiorana Timo Origano Menta Qualsiasi cosa Potete provare e fare un misto di aromi Vado a mettere l'olio Aspettate qui Ecco L'olio Metto Il trito Tutto Perché deve essere agli aromi Ce ne deve essere tanti Io praticamente Lo sapete come si fa Le vongole Le prendo Le metto nell'acqua salata Ci metto una fondina Rigirata Nell'acqua E sopra ci metto le vongole E le lascio Spurgare Spurgare bene bene Però ci voglio mettere anche un po' Un po' di vino bianco Natalia Da qualche parte Un Un bicchino di vino bianco Per dargli quel che Che profumo Guardate che con il rosmarino È molto 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 Buono È profumato Perché con il vino bianco Gli vado a dare Una sfumatina Mi dà quella giusta Cremosità Che poi mi accompagnerà Il piatto Grazie Vedete Così E si fa Si fa sfumare Questo è giusto Proprio il che Di sfumare Di spurgare Le vongole Perché poi dopo È velocissima Da fare Prendo le vongole Io amo molto Mischiare Le cose Io lo dico sempre Come la cumarola Con diversi tipi di pomodoro Viene più buona Questa qui Diversi tipi di vongole Di conchiglie Viene buonissima Quando si miscano Le varietà Perché qui Giustamente c'è Io amo molto I lupini I lupini Che sono molto Molto Saporiti Le vongole Sono belle Ciccione E quindi Prendiamo anche Un po' di pepe Gli aromi Guardate Ora a fuoco Vivo Sempre Vedete Incominciano A aprirsi Coperte Così E si fanno Aprire Cioè Quando si aprono Si sente Sto profumo Qui Pesce fresco Proprio Non c'è Non c'è Che dire Proprio Vedete Fanno Questa schiumina È giusto Giusto Ecco qui Intanto Controllo Il Ecco va Non c'è Questa Questa Mi sa Ecco qua Tanta roba Tanta roba Il momento Può diventare Anche Una base Per fare Un primo Con le vongole Naturalmente Senza Aglio e prezzemolo Le fate Agli aromi E può diventare Anche Un condimento Per la pasta Però Così fa Molta figura Ecco qua Si fanno riposare Un attimino Tolgo Tolgo Questo qui Perché poi L'andremo A completare Con Della Bottarga Che gli darà Quello sprint E quella Grinta In più Anche Questa La trovate Da Ilio Pesca Buono 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 Ecco qua Le bricioline Stanno diventando Si finisce Di fatto Stare Il pane Ecco qua Se li volete Io li avrei fatti Cuocere Anche un attimino Di più Però Va bene Dai Ecco qua Si spenge Il forno Si prende Il pane Tostato Si mette Qui Sotto E Si prende Opa Oh wow vedete questo sughino qui? questo sughino è quello buono così che va a bagnare anche il pane allora poi si pulisce un po' si prende la bottarga e si va ecco qua, il brisciolè le brisciolè guardate, ecco il risultato del nostro piatto un profumo pazzesco potete fare un antipasto improvvisato un primo improvvisato però mi raccomando le vongole devono essere fresche all'ilio pesca ci sono io vi do appuntamento a domani sempre qui da Campo Valerio Agriturismo Campo Valerio e che dire buon appetito e buona giornata a tutti ciao oh mamma qui questo programma è stato offerto da mar blu è ilio pesca prato il mare sulla tua tavola grazie a tutti grazie a tutti